Ciao a tutti e benvenuti su Fishing in the Blue, benvenuti al nuovo vlog di pesca, sono con la canna da spigola in giro, in cerca di spigole, che dire, andiamo molto in superficie con qualche gomma spiombata e andiamoci a pescarlo, iniziamo la superficie. Abbiamo dietro le spigole, in troppo abbiamo un po' di verità, ma noi andiamo ancora. Sto cambiando zona perché qui non ho visto assolutamente niente, quindi prendo la macchina e mi sposto qua vicino, vediamo se troviamo più attività. Eccomi, ho già cambiato lo spot, vediamo qui se c'è qualcosa. Grazie a tutti. Siamo con un komomo, sperando che se si agganci qualcosa le altoreste tengano perché sono un po' arrugginite. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ce l'ho ce l'abbiamo ragazzi non barra non barra eccolo ce l'abbiamo prendiamolo dalla bocca si fa fatica apri la bocca non vuole aprire la bocca eccolo guardate stavamo cercando la spigola guardate cosa vi ho preso bellissimo barra guardate che spettacolo andiamo a rilasciarlo andiamo a rilasciarlo ecco ragazzi il video si conclude qua io vi ricordo che qui sotto avete il mi piace e iscriviti al canale per non perdervi i prossimi video fatelo è gratis lasciate il vostro commento e niente è uscito un barracuda sono contento dai non è una spigola però almeno abbiamo preso un pesce abbiamo scappottato non me l'aspettavo io me ne vado già perché sta facendo buio e noi ci vediamo al prossimo vlog ciao